Giacomo immagino che ci sia tanta voglia di riscatto, bisogna cancellare questa bruttissima sconfitta, arriva un avversario tosto però non si potrà sbagliare. No, è detto bene, abbiamo commesso un passo falso, purtroppo il primo passo falso che abbiamo fatto l'abbiamo fatto in modo un po' plateale come risultato. Ci dispiace per noi e soprattutto per i nostri tifosi che sicuramente perdere 5-0 non è mai bello. Siamo rimboccati le maniche, siamo allenati bene, a testa bassa perché è giusto così e sappiamo che domenica è una partita molto importante per l'orgoglio nostro e so che è anche molto sentita da parte dei tifosi. Sicuramente è una partita che non possiamo sbagliare sotto il profilo dell'approccio alla gara. Poi sappiamo che Perugia, a mio avviso, è la squadra più forte del campionato, ci può stare qualsiasi risultato ma noi scendiamo in campo per vincere, poi vedremo. Sei riuscito a darti una spiegazione, tu che hai tanta esperienza, di questa debacle clamorosa? Mi sento di dire che è stata un po' troppo pesante come ogni errore nostro noi prendevamo un gol. Nel primo tempo, se uno analizza bene la partita, la partita poteva finire non sul 3-0 ma magari sul 2-1, insomma essere ancora aperta. Sicuramente il calcio è così, non si vince i punti, quindi bisogna concretizzare. Noi non l'abbiamo concretizzato, loro in ogni azione sono stati bravi, sicuramente avvantaggiati anche forse da un campo che conoscono molto bene, molto diverso che giocare sull'erba. Però questa non deve essere una giustificazione, se noi avessimo forse avuto un po' più di, non so come chiamarla, un po' più di concentrazione, un po' meno anche timore, perché è ovvio che quando chiudi il 3-0 al primo tempo, molti ragazzi giovani magari, ma chiunque, ma anch'io, siamo rimasti un po' demoralizzati, quindi non era sicuramente facile. Quindi le spiegazioni sono tantissime, ma dobbiamo voltare pagina e insomma imparare da questa sconfitta e prendere le poche cose positive e imparare a non ripetere quelle negative. Ci sarà tantissima attenzione su questa partita, perché per il Perugia è uno snodo cruciale della stagione, da Frosinone e da Lecce seguiranno il match con molta attenzione. Questa pressione può essere un vantaggio per un Ascoli che non ha nulla da perdere, mentre il Perugia, ripeto, non può sbagliare? Io penso che il Perugia faccia il suo campionato, noi guardiamo al nostro. Sinceramente a me è del Lecce e del Frosinone che guardano, non mi interessa, nel senso che penso che loro facciano il loro campionato, sono squadre forti e è giusto che lottino fino alla fine per il vertice. Noi affrontiamo una grandissima squadra, lo sappiamo, non ci preoccupiamo di eventuali classifiche, perché questa è la fortuna di quest'anno, però noi abbiamo un orgoglio sicuramente da tutelare, nel senso che ci teniamo tanto come giocatori, con l'Ascoli ci tiene tantissimo, ci teniamo soprattutto dopo una sconfitta del genere, ci teniamo per i nostri tifosi che ci tengono tantissimo in questa partita. Le due prestazioni finora sono state molto positive, peccato per il rigore sbagliato a Pontedera, manca quel gol, sarebbe una ciliegina sulla torta, farlo contro il Perugino del Duca che si annuncia bollente. Eh, diciamo che forse è stato il fatto che quando sono andato a calciare nel calcio di rigore sicuramente ci ho pensato che mi mancava il gol, forse è stato un po' precipitoso, un po' non dico impaurito, perché a 33 anni essere impaurito a tirare un calcio di rigore non è sicuramente quello, però sicuramente un po' di tensione perché ci terrei a fare il mio primo gol, questo sicuramente, però preferisco farlo un gol importante magari che serve per un risultato, che magari farlo su un 4-0, una partita compromessa. Però non deve essere un assillo, cioè se io firmerai adesso se l'Ascoli facesse il risultato domenica e io ancora non sognassi. Fisicamente come stai? Sai benissimo che la dirigenza ti sta osservando con molta attenzione in ottica futura perché comunque stai facendo bene, tu come ti senti? No, no, io settimana dopo settimana sto crescendo dal punto di vista fisico, penso che ne stiano anche accorgendo, poi spero loro facciano una valutazione positiva da qua alla fine e la mia speranza è quella di rimanere. Ti stai trovando bene ad Ascoli? Molto, molto.